Paolo, sapevo io che era un disastro. Stefano, che ormai è un bitcoiner da quanti mesi? Dall'anno scorso i primi bitcoin a 400 dollari, 500 dollari, mi sembravano cari. Te li ha consigliati a Metrano? Sì, no, benetazzo. Va bene, allora, io vi parlerò di qualcosa di un approccio un po' diverso, perché oggi pomeriggio ci sarà la parte più tecnica, si parlerà di trading, si faranno le sessioni, ci sarà Federico Izzi. Io quindi ho pensato di fare un qualcosa con un approccio più psicologico che, ben sapete, come la psicologia nel trading è fondamentale. L'approccio psicologico che uno ha al trading è fondamentale. Quindi ho chiamato questa presentazione Criptomania. Questo perché, se ci pensiamo, siamo tutti diventati un po' maniaci da quando siamo entrati nel mondo delle cripto. Pensiamo sempre a quello e, in più, è cambiato il nostro modo di vedere il mondo. Non so se è successo anche a voi. Io oggi, quando leggo certi commenti nei social o leggo certi titoli giornali, sembrano cose lontane che non mi interessano più. Sono entrato in un'altra dimensione, appunto, nella dimensione della Criptomania. Allora, per la Criptomania spero che non vi abbia fatto arrivare a questi livelli, tanto più se avete una moglie come quella in immagine. Però, in effetti, è vero. Cioè, credo che sia successo un po' a tutti di trovarsi a controllare le proprie posizioni di trading in Cripto in tutte le situazioni. Magari io ho messo questa che era più divertente. Magari era sul tram, oppure sotto la scrivania al lavoro. Bene. Per chi non mi conoscesse, io sono Stefano Bassi, blogger del Grande Bluff, da nove anni, e in più sono analista finanziario e trader a 19 anni sui mercati. Questo brevemente. Allora, chi legge il mio blog sa che da circa un anno e mezzo ho inventato un tormentone allucinante che si chiama quello dell'Italopiteco. Praticamente la definizione è che una buona parte degli italiani non sono consapevoli della fase evolutiva che sta avvenendo, di come cambia il mondo, dei nuovi trend, della globalizzazione, delle criptovalute che non sanno neanche cosa sono. E quindi qui ho riassunto da un lato, c'è l'Italopiteco che è quello là sopra, e dall'altro invece c'è l'italiano più elevuto, l'italiano sapiens, che riesce a cogliere i cambiamenti e a cavalcare, a anticipare e cavalcare i trend. Ecco, io con questo Italopiteco martello, naturalmente ironico, molti si offendono e se ne vanno, altri invece capiscono e fanno un passo avanti. Un giorno o l'altro qualcuno mi aspetterà sotto casa, che riempiera di botte, vabbè, pace, vorrà dire che non ha nessuna possibilità di evolvere. Ecco, c'è un concetto che ho spiegato una volta nel mio post, questo si chiama Igor Siballi, è bravissimo, è uno scrittore conferenziere, filologo, traduttore, anche spiritista per certe cose, e lui ha sviluppato, guardate questo grafico, è molto interessante, due righe, qui c'è la massa, questa è la tendenza della massa, e poi a un certo punto, paf, c'è una parte che si allontana, ed è la speciazione. Avviene in natura, in effetti, è un processo naturale, biologico. Ecco, io mi vedo molto con le criptovalute in questa linea qua, deviante, che si è spostata. La gente continua ad andare in questa direzione, e noi invece stiamo andando in qua. A un certo punto cosa succede? Più si va avanti nella linea, più è difficile riuscire a fare la speciazione, e riuscire a uscire dalla massa. A un certo punto si svilupperà un binario nuovo, e questo invece andrà a morire. Questo è il concetto di speciazione, che è molto importante, secondo me, proprio anche nelle criptovalute, perché noi stiamo vivendo un qualcosa che, se sopravviverà, come pare che succeda, in effetti porterà la realtà a cambiare in maniera decisiva. E noi, per fortuna, siamo in anticipo, siamo, diciamo, qua, a questo punto qua. Gli altri continuano ad andare dritti, intruppati, gli talopitecchi, eccoli qua, tutti lì in fila. Allora, come dicevo appunto, io la chiamo rivoluzione Bitcoin blockchain, implica un cambio di paradigma. Ecco, io molte volte nei miei articoli dico non va bene rimanere esattamente uguale a se stessi e avvicinarsi al mondo delle criptovalute solo per arrotondare lo stipendio, avere una mancetta mensile, giocare al grattevinci. Si può fare, perché comunque le criptovalute sono un mezzo, quindi come un coltello io lo posso usare per tante funzioni, no? Però io quello che consiglio è che se uno si avvicina al criptovalute deve prima di tutto cambiare mentalità. Deve andare oltre i luoghi comuni e i vecchi schemi, anche perché è un mezzo che può diventare un fine, perché potrebbe veramente cambiare il mondo, lo sta già facendo tutti i giorni, e quindi è importante riuscire a non rimanere uguale a se stessi, altrimenti secondo me non si va lontani. Si fa magari un po' di soldi, si arrotando uno stipendio e magari ci ricolleghiamo proprio al discorso di riportare immediatamente i soldi, pensare a come pagare le tasse, tutte queste cose qua, no? Però rimaniamo uguali a noi stessi e perdiamo forse il 90%, la parte più importante, della rivoluzione delle criptovalute. Ecco, infatti io ho lanciato una specie di criptomantra, no? Un OM, dove uno tutti i giorni se lo ripete, si sveglia la mattina davanti allo specchio, se lo ripete, e forse riesce a fare questo cambiamento, no? Di paradigma. Ecco, allora, dobbiamo ripeterci tutti i giorni che il criptomantra, la rivoluzione del bitcoin, comporta la decentralizzazione, la disintermediazione, accorciamento della catena del valore, cioè cosa vuol dire? Prendiamo un esempio, l'altro giorno guardavo che quest'anno c'è stato un aumento record dell'assicurazione di responsabilità civile RC del 14%. Ecco, allora, cosa succede? C'è una tale catena di valore, più una serie di, una situazione lobbistica e monopolistica, che porta a questi continui aumenti e in più la catena è lunga, perché tanti ci devono mangiare sulle assicurazioni. Immaginate le assicurazioni fatte magari attraverso un smart contract quanto potrebbero, per esempio, costare meno, oltre di quanto già costano meno online. Quindi l'accorciamento della catena. Poi il concetto di sovranità personale. A me hanno fatto sempre un po' sorridere i cosiddetti sovranisti, che dicono, ah, dobbiamo tornare alla lira, la moneta sovrana, la moneta del popolo, possiamo parlarne per 18 ore di fila. Ecco, qui abbiamo invece subito una possibilità che è quella di tornare a una sovranità personale, perché, come dico più avanti, tu sei la tua moneta. Poi, vabbè, il concetto di libertà, perché tutte queste nostre società, questi nostri stati, più ha aumentato il debito, più sono diventati totalitari e liberali, più ci hanno tolto libertà, più continuano a togliere. Pensate, per esempio, all'ultima tra tutte, dove se il fisco è in sospeso con te qualcosa, può direttamente pignorarti il conto corrente e ti trovi il conto corrente bloccato. Questa cosa è passata sotto silenzio quasi a luglio ed è operativa. Quindi, praticamente, è direttamente un titolo esecutivo, la cartella che ti arriva e ti possono bloccare il conto corrente. Ecco, quindi, invece, con le crypto all'ultima si torna a un concetto di maggiore libertà che man mano ogni giorno ne perdiamo un pezzo. Poi, io ho messo redistribuzione del valore peer-to-peer. Peer-to-peer, immagino sappiate cosa voglia dire, una rete equilibrata, come potrebbe essere i MUL, quando scaricate un film, che non dovete farlo, ma vostro cugino l'ha fatto, ecco, cosa fate? Prendete, non so, otto e mezzo di fellini, un pezzettino del film arriva dall'Australia, un altro da Passeranno Marmorito, un altro da Pinerolo e si mette insieme il film. Questo è il peer-to-peer, tutta redistribuita. No? E quindi, la distribuzione del valore nella rete d'icone avviene in questa maniera. Ho messo re tra parentesi perché a me la redistribuzione è un concetto centralista che non mi piace. Cioè, il fatto che uno crei ricchezza, c'è sempre qualcuno che deve pensare a come redistribuirla. Mediamente lo fa malissimo. Quindi io direi che va bene distribuzione del valore. Poi, il mercato nel senso migliore e accrecciativo del termine perché il mondo del bitcoin porta appunto a un mercato. Cosa succede? In Italia, ci rendiamo conto come le parole sono importanti, anche la linguistica è importante perché è un modo di pensare. Voi pensateci un attimo, tutte le volte che dite mercato, un attimo, sobbazzate. Mercato è brutto in Italia. È un termine brutto. Voi provate a parlare di mercato in coda da panettiere, ci sarà sicuramente qualcuno che inizia a dirgli il mercato, il mercato con la cosa lì, eccetera. E questo invece, il mercato del bitcoin è un mercato nel senso buono nel termine, con i suoi difetti come tutte le cose, chiaramente. E poi appunto finiamo il mantra con tu sei la tua banca perché in effetti gestisci i tuoi soldi con tutti i cazzi e mazzi, scusate il termine della situazione, perché la responsabilità è di nuovo tua. C'è di nuovo il concetto di responsabilità personale. Ti devi gestire tu, quindi massima libertà, massima responsabilità personale. La responsabilità personale è qualcosa che in questi mondi centralizzati, pieni di regolatori, authorities che poi non regolamentano e non proteggono nulla, come vediamo, pensate all'ultimo caso di Banca Popolare di Bari che adesso è messa malissimo, una situazione molto complicata ma non è qual'argomento e la Consum non ha vigilato, Banca Italia non ha vigilato e l'ennesimo caso, no? Pensiamo di essere protetti e non lo siamo. Qui invece, in effetti, dobbiamo gestirci tutto noi, tu sei la tua banca, tu sei il tuo denaro, tu sei il tuo valore, tu sei la tua moneta. Massima libertà, massima responsabilità personale. Ecco, al di là del mantra, poi dopo però dobbiamo unire un atteggiamento razionale. Non possiamo solo appunto essere dei criptomani ma unire anche in effetti un metodo adesso qui citavo Cartesio, no? E quindi fare un discorso sul metodo. Ecco, allora, il Bitcoin quindi non è solo una rivoluzione epocale potenziale ma è anche qualcosa di, come diciamo anche prima, un investimento. Semplicemente può essere anche un investimento oltre che un cambio di visione. Questo investimento va fatto con certe regole. Come diciamo sempre noi, deve essere un concetto di differenziazione. cioè, nessuno, quando tutti attaccano il Bitcoin e dicono una bolla, sembra che presuppongono che siano tutti dei deficienti che mettono il 100% della propria capitale sulle criptovalute. Ma questo è un errore che se lo fai anche sul bot, non parliamo del bot, ma su qualunque asset finanziario è un errore grave. Noi consigliamo massimo un 10%. Come giustamente aveva detto Paolo in un video, Paolo Barrai, ha detto più passerà il tempo più questa percentuale salirà. In effetti prima, se ci pensate quando il Bitcoin valerà un dollaro, magari bastava lo 0,1% del vostro capitale per fare un pacco di soldi. Oggi magari ci vuole il 5-10%, domani ci vorrà il 30%, quindi il 40% è sempre di più. E la finestra è... Sì, in effetti nel portafoglio di asset allocation che ho fatto nel 2015, primo gennaio 2015, ho messo dentro l'1% del patrimonio in Bitcoin. L'1%, tanto se perdeva, se andava a zero, valeva 300 dollari. Quindi adesso rappresenta il 12% o 13% di un patrimonio. è rimasto fermo, siamo partiti da... Sì, infatti, quello è il concetto. Ecco, quindi, ci vuole anche nel... Pur ripetendoci il mantra tutte le mattine, facendo questi discorsi di cambio mentalità, dobbiamo però applicare delle regole standard dell'investimento, come dicevamo. Quindi controllo del rischio, metodo, razionalità, competenza, se uno riesce a svilupparla da solo, se no si appoggia a Bbit o qualcun altro, non importa, altrimenti diventa la classica scommessa on-off, cioè o mi va bene o mi va male, one shot, oppure gratta e vinci se vogliamo usare un altro termine. Diciamo che questa scommessa gratta e vinci per adesso ha sempre funzionato, infatti poi parleremo un attimo più avanti del fatto come il mercato delle criptovalute ha un po' sconvolto le regole standard del trading e dell'investimento finanziario, perché certe regole che abbiamo sempre applicato sembra che nelle criptovalute almeno per oggi non funzionino, anzi siano contoproducenti, parleremo poi dello stop loss. Ecco, toro infinito, ecco io tempo fa quando la Fed iniziò a pompare i mercati e a stampare miliardi e miliardi di dollari con il termine toro drogato, praticamente i mercati salivano sempre, abbiamo visto che stanno continuando a salire tutti gli effetti, ormai siamo a 22 mila punti Dow Jones. Ecco, come possiamo vedere perché questo mercato ha sempre perdonato come dicevo prima e certe regole non funzionano, perché qui potete vedere il Bitcoin, a parte alcune profonde correzioni, quella che citavamo del 2013, è sempre salito, no? E quindi in effetti sembra che debba continuare a farlo. Allora, a parte qualche correzione come dicevo, il trend è sempre a rialzo. Questo cosa comporta? Bisogna stare comunque attenti. C'è un annullamento della percezione del rischio, cosa che tra l'altro è successo nel mondo in bolla, della grande bolla, come la chiamo io la Big Bubble, dove in effetti ormai il rapporto rischio-rendimento non esiste più. Cioè si compra qualunque cosa puntando sul moral hazard pensando che tanto una banca centrale o uno Stato interviene a salvarti. Quindi la percezione del rischio non c'è più, non ce n'è anche qua in effetti, per molti, non per tutti. Quindi stiamo attenti a questa cosa qua. Ecco, si sviluppa un senso di onnipotenza e invulnerabilità. Tu che cosa fai? Eh cavolo, ho messo mille dollari sul Bitcoin, adesso ne ho centomila, ti senti un figo pazzesco. Cioè ti senti Superman, dici ma io sono inattaccabile, invulnerabile, onnipotente, guarda gli altri sono degli sfigati, io invece faccio un sacco di soldi. Ecco, è giusto, è vero, è così, però bisogna stare attenti anche a questo perché è una gestione del rischio che va comunque tenuta presente, tenersi sempre pronti comunque a cambiare atteggiamento. Questo che cosa ha portato questa continua crescita? Avere il fatto che la maggior parte del mercato delle cripto si sono avvicinati persone senza un minimo di rudimenti in base del trading, però, come dicevo prima, spesso alcuni capisaldi del trading non hanno funzionato. Poi, piccola parentesi, non è che le persone che sono nel mercato finanziario tradizionale abbiano particolari rudimenti, cioè gli italiani sono tra i più ignoranti al mondo come anafrobitismo funzionale, siamo i primi, col 47%, figuratevi quello finanziario secondo me ci avviciniamo al 90%, quindi, cioè, anche là fuori, come dico io, nel mondo della finanza tradizionale, l'ignoranza regna sovrana. Ecco, che cosa succede? Questo è un po' l'atteggiamento che si sviluppa tra molti di noi e dobbiamo stare attenti. Questo è un vecchietto di 60-70 anni, no, scusate, una persona di 60-70 anni magari è un tifoso spiegatato del bottafogo, ecco, io mi immagino qualcuno di voi che si mette qui sopra Iota, Dash, mo' nero e va nello stadio. Ecco, stiamo attenti anche a questo, mai innamorarsi comunque di una criptovaluta. In certi casi può funzionare, per esempio, se uno si innamorava di Ethereum a 10 dollari fino a 400, vabbè, gli è andata bene, però, è pericoloso, perché molte criptovalute, soprattutto oggi, che il mercato sta diventando più difficile e selettivo, potrebbero, molte altcoin, potrebbero anche sparire. Ecco, e qui ho detto, quel che mi preoccupa veramente è il mercato delle criptovalute. Allora, quando degli pseudo esperti, come li chiamo io, hanno fatto il paragone con la bolla dei tulipani, con lo schema Ponzi, con cos'era, non mi ricordo neanche più, la truffa, eccetera, cose che io ho smontato in un video, non so se l'avete visto, e anche in vari articoli che ho fatto. Non sto a ripetermi, sono inesatti come paragoni, però fanno scena per il pubblico, perché la bolla dei tulipani suona bene, sono sbagliati, e per varie ragioni. Per esempio, non so, brevemente, lo schema Ponzi promette un rendimento, e man mano la gente che entra permette quel rendimento alle persone che ci sono già dentro. Il bitcoin non ho capito esattamente che rendimento promette, perché è a capitale a rischio, lo sappiamo tutti, uno si è preso una scopola da 5.000 a 3.000, e cosa c'entra? Quindi, per dire, sono paragoni fatti così. Invece, quello che potrebbe essere veramente preoccupante è un po' il discorso che stava facendo del tifoso, eccetera. Robert Schiller, che è uno dei pochi economisti che io stimo, perché è un economista pragmatico, e tra l'altro ha un approccio di finanza comportamentale, l'altro giorno è uscito anche lui dicendo, ah, è il perfetto esempio di bolla, mi sono cascate le braccia, ho detto, no, anche lui, non è possibile, ormai tutti i giorni qualcuno deve dire che è una bolla. Però ho aspettato un attimo, ho detto, ma cerchiamo di analizzare cosa ha detto, perché non è uno stupido, a parte che è un premio Nobel, ma questo non vuol dire niente, ci sono premi Nobel totalmente deficienti. Ecco, è uno dei pochi economisti di bramatici. Allora, lui che cosa ha detto? È interessante, ha detto, il mio esempio di bolla in questo momento è il Bitcoin. Penso che questo abbia a che fare con il carattere motivante della storia del Bitcoin. Ecco, perché è vero, il Bitcoin ha una storia, ha una storia veramente affascinante, sembra un romanzo d'appendice, anzi no, un romanzo d'avventura, o anche un po' un giallo, un mix, una cosa di, anche fantasy, perché in effetti vi ho visto i risultati. quindi, l'ha visto dai suoi studenti, perché tantissimi giovani sono al mercato della crypto, mettono il loro 500 euro e sperano di fare i soldi, si entusiasmano e penso, cos'è così emozionante? Cos'è questa storia del Bitcoin? Tutto iniziato con Satoshi Nakamoto, l'ho ricordato, una figura misteriosa, per esempio anche l'elemento del mistero, che non si sa chi sia, se sia un team, che cosa abbia fatto, poi il discorso, ecco, l'allore di mistero. Sì, Mancato, Nakamoto. Sì, sì, ho notato, ma era nel, era nel defuso, questo è un coppincolla dell'intervista presa da un giornale, ecco, vi faccio notare che ne hanno messo il to per capire quanto conoscono l'argomento quando scrivono questi articoli. Ecco, poi, l'idea geniale della critografia e quindi in questa, hai l'idea di avere qualcosa di potente, di incontrollabile che non può essere fermato, il fatto che non può essere regolato, il che in teoria è vero, il giorno che finalmente non avremo più sti cavolo di exchange centralizzati, ma avremo gli exchange decentralizzati, perché se no siamo attaccabili, cioè è assurdo avere una rete peer-to-peer decentrata e poi avere gli exchange centralizzati che domani mattina ci bloccano il nostro exchange. quindi si adatta perfettamente all'angoscia di questo periodo storico, il bitcoin ha un senso di autonomia o capito o la chiave. Posso speculare se è ricco, ah beh, questo non sono d'accordo perché si può fare su qualunque asset, ma magari qui si riesce solo meglio e quindi tutta questa storia del bitcoin è una soluzione all'angoscia fondamentale che abbiamo in questo periodo, in questa società. Ecco, qui è interessante questa cosa se andiamo oltre, anche se come al solito è stata manipolata questa intervista perché era un'intervista televisiva e i giornali hanno riportato solo quello anche con Nakamo senza alto finale e quindi se noi guardiamo invece l'intervista completa televisiva è molto interessante perché Schiller non è stupido e che cosa dice? Dice, sì, è vero che c'è questo, hanno preso solo il primo pezzo e io ho visto i miei studenti a Yale che sperano di far questo, quest'altro, hanno preso solo quel pezzo lì. e quindi sono tutti esaltati perché pensano di... Poi però lungo avanti dici, sì, però attenzione, la rivoluzione Bitcoin potrebbe anche funzionare. È un'innovazione tecnologica molto importante che è vero che sta attirando un'esaltazione incredibile moltiplicato per quattro valore tipico da bolla in teoria, però non si può sfidare col pregiudizio. Quindi, come lui stesso dice, se l'innovazione è fondata potremmo trovarci la 25 mila dollari. E lo stesso Schiller dice, pensate, se solo dovesse sostituire del 5% il mercato dell'oro tradizionale, considerato che molti considerano il Bitcoin l'oro digitale. E quindi vedete che come manipolano le informazioni. Ecco, questa è la visione completa di Schiller. Cioè, attenzione sulla parte psicologica di approccio alla rivoluzione Bitcoin, ma se è fondata, ecco, seguiamo comunque le slides, se l'approccio psicologico di base, finanza comportamentale che è quella di Schiller, ma se da un certo punto di vista poi la rivoluzione avrà successo e ha delle basi, la crescita di prezzi potrebbe essere razionale. E fino ad oggi, in effetti, si è dimostrata così. Stare comunque attenti perché tutte le volte che noi pensiamo di rivoluzionare il mondo, in effetti siamo meno razionali. Perdiamo un pochettino il controllo. Devo dire che anch'io sono tutti i giorni esaltato dicendo, ah sì sì, adesso cambiamo tutto, rivoluzioniamo tutto. Vabbè, però bisogna anche un po' crederci, altrimenti non si combina nulla, ecco. Andiamo avanti. Ecco, qui c'è una stima importante che ci fa ragionare su due parti. Allora, nel mondo ci sono solo stime, perché è difficile, però sono affidabili, le ho confrontate anche con Giacomo Zucco recentemente, me l'ha confermato. Quindi, nel mondo ci sono appena 300.000 persone con almeno 5.000 dollari in bicone, sono meno dello 0,05% della popolazione mondiale. In due anni, sì ma di nuovo, gli utilizzatori delle criptovalute potrebbero salire a 10 milioni a 50-100 milioni. Fatevi voi i conti di cosa potrebbe succedere se ciascuno inizia a comprare 1.000-2.000 euro di bitcoin. figuratevi se poi entra all'1% dei vari fondi, cioè ciascuno con l'1%. Oggi quindi abbiamo un 0,15% di penetrazione sul mercato, pensate se dovesse salire solo al 2-3%. Quindi, questi dati servono a due cose. Uno, a vedere come ci può essere veramente un boom nella dinamica dei prezzi, quando si parla di 25-50.000 sembra di essere dei pazzi scatenati, ma in effetti le basi ci sono a tutti gli effetti. però dall'altra questa dinamica qua vedendo che pochissimi hanno più di 5.000 euro quando io ho 100-500 euro su una criptovaluta a questo punto sto giocando a gratta vinci. Niente di male, non si può fare, però chiaramente sono degli oldatori duri e puri. Cioè, è gente che dice vabbè, io tengo lì, può succedere qualunque cosa o la va o la spacca. Ecco, qui potete vedere visualizzato appunto le capitalizzazioni del bitcoin rispetto all'oro rispetto all'equities. guardate che roba, cioè, non c'è nulla. Quindi mi fa ridere quando parlano di bolla. Allora, se vogliamo parlare di bolla parliamo di bollicina perché proprio non... Oppure è qualcosa veramente ai fatti quelli più intelligenti dicono ma potrebbe anche diventare una vera proprio bolla ma adesso la capitalizzazione è ancora veramente microscopica. Qui è un po' vecchio lì i 41 billions perché adesso sarebbero 70 circa. Comunque guardate, c'è tutta la capitalizzazione del bitcoin e meno della ricchezza personale di Bill Gates prima che salisse quella di Larry Page guardate gli altri dati guardate 730 billions di Apple dieci volte tanto cioè abbiamo dati colossali e ritorniamo un po' al discorso che dicevamo prima, no? Ecco, come dicevo prima in effetti tutta questa continua salita ha creato una sorta di delirio di onnipotenza. In effetti il mercato è sempre salito quindi io posso avvicinarmi senza alcuna conoscenza neanche basilare e mi è sempre andata bene mediamente, mediamente poi magari mi è anche andata male. Quindi praticamente anche persone senza alcuna competenza hanno dato duro e puro hanno messo i loro 1000 5000 euro magari hanno fatto il 1000% e questo purtroppo crea un grave inconveniente che speriamo che vada sempre tutto bene perché si crea un attaccamento fideistico a qualche coin o a qualche criptovaluta e l'errore più madornale classico del trading è mai innamorarsi del proprio investimento cioè degli investimenti e del trading e questo invece viene fatto tantissimo come vediamo tutti i giorni nelle chat vediamo proprio come nelle varie chat del crypto la gente è impazzita per la sua crypto cioè proprio sono innamorati dell'investimento io quello che dico sempre è va bene questa cosa qua però sarebbe più utile una maggiore consapevolezza da parte di tutti dovremmo fare uno sforzo perché è vero che ci sono quelli che mettono addirittura 50 euro non sto scherzando cioè continuamente ci sono persone che mi mandano email vanno in una chat e mi dicono io vorrei iniziare e vorrei mettere 50 euro cosa faccio? uno non sa bene cosa fare da un lato è vero che dice vabbè meglio di niente sono dei giovani provaci almeno ci provi ma come fai a investire con 50 euro cosa fai? metti 5 euro su Ethereum 2 euro è una cosa incredibile conosco una ragazza l'altro giorno un mio amico mi raccontava di una ragazza che è una questo è un episodio interessante una musicista insegnante di musica che naturalmente fatica arrivare a fine mese allora un giorno si sveglia e dice ma guarda ci sono le criptovalute è partita in quinta ci ha messo 50 euro ci sta lavorando dalla mattina alla sera da 3 mesi adesso è a 200 sa tutto sa tutto cioè lei che cosa fa? va sulle Shikcoin cerca proprio le Shikcoin quelle merda siccome hanno pochissimi volumi si mettono d'accordo mandandosi l'SMS ne comprano 10 euro ciascuno fanno la colletta improvvisamente partono delle macchinette o di sistemi la fanno salire e loro rivendono e sono fatti 5-10 euro a testa cioè però è interessante come fenomeno cioè non servirà poi però il bello che l'ho detto ma se questa qui a un certo punto questo mi dico mi fa ma si però quando poi devo convertire in euro i miei bitcoin i miei guadagni e qui è andata ben oltre a tutti noi e a molti che vogliono dichiarare ha detto cosa? gli ha detto ma tu sei pazzo tu devi tenere in bitcoin non esiste la valuta fiat non esiste più come fai a ragionare ancora in valuta fiat? e lì ma mi ha fulminato perché la sfottevo come una cretina 50 euro eccetera e invece ha capito più di molti di noi è vero non dobbiamo più considerare dove possiamo la valuta fiat o comunque possiamo allora gli ho detto beh però la ragazza non è scema su tutte queste cose lei è di Torino come me quindi e allora le faccio ma senti ma contattano un attimo dille perché magari adesso fanno delle assunzioni in giro o ti faccio fare un colloquio no 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 io da Torino non mi muovo c'ho tutti i miei amici e non si muove va bene questo è un po' un caso umano che vi fa capire molte cose nel mondo delle criptovalute ah sì dicevo quindi una maggiore consapevolezza perché la sfida è epocale e ci abbiamo tutti addosso l'abbiamo visto dall'inizio di settembre dove gli attacchi al bitcoin sono diventati una cosa allucinante cioè tutti i giorni c'era tutti i giorni c'è qualcuno ci mancava solo il papa e veramente avevamo chiuso il giro quindi una maggiore consapevolezza sarebbe utile perché saremo più forti e daremo maggiore possibilità a questa rivoluzione di avere successo ecco allora questa ve la devo proprio leggere perché è veramente significativa allora l'altro giorno il mercato crollava delle criptovalute io ho messo un giorno c'è un film un giorno di ordinario della follia no? questa è una giornata di ordinario a crypto chat guardate qua è uno spaccato fantastico pippo perché crolla il bitcoin e tutte le altcoin? impossibile rifugiarsi con le altcoin perdono ancora di più che fare? e qui in effetti non sbaglia perché le altcoin non si sono liberate una protezione negli ultimi tempi in altre correzioni sì salvo perché perché non posso solo e sempre salire magari fosse così saremmo tutti ricchi vabbè questo è saggio Filippo guardarsi un porno o spegnere direttamente il computer? cioè qui atteggiamento fideistico no? ma tu spegni non guardare perché poi ti viene solo l'ansia tanto sale e l'altro infatti conferma conferma dopo hold e basta tieni e basta l'altro stringere le chiappe e aspettarle religiosamente con fede risalirà perché l'ho chiamato atteggiamento fideistico fate voi che fare? comprare di più semplice certo mediano a ribasso sempre fatto se lo facevi nel trade tradizionale in molti casi vieni disintegrato mediando sempre a ribasso sul titolo in trend discendente insomma io direi di aspettare domani vediamo come si svegliano i cinesi questo è bello è il concetto della mitologia del criptomondo questi cinesi che si svegliano cambiano il mercato non si sa chi sono cosa fa non è vero comunque vabbè compri i saldi io ho sufficienti btc per fregarmi di comprare altri quindi autosufficienze non è abbastanza però compri i saldi l'altro giustamente dice ma allora che cazzo inviti a comprare cioè tu ne hai già abbastanza allora per forza chi dice a noi di comprare adesso no? e va avanti adesso finisce brevemente però è divertentissima e un altro fa vendi tutto presto spegni il pc e vai a dormire peccato che sono all'estero e non posso comprare ora che è così basso cioè basso in relazione a cosa? cioè dipende no? investire in monete d'oro no eh si comprano o vendono sempre ovunque vabbè e questo fa la furbata dicendo cioè di nuovo la storia che sempre l'investimento deve essere un'alternativa o prendi il bitcoin no? ma perché non prendi la moneta d'oro? no? non posso avere tutte e due no? cioè non posso avere le monete d'oro e il bitcoin no? tu il bitcoin non va bene prendi le monete d'oro non va bene le monete d'oro prendi solo azionario vabbè tagliarsi le vene ormai è finita bellissima prega prega se puoi compra ancora altrimenti tenersi attaccata alla barra tutte e due le mani e aspettare la risalita questa è la metafora marinaresca fantastica in tempesta spero in dio l'ho chiamato io io purtroppo o per fortuna mi sono innamorato della mia cripta tanto dio che ho scelto che ho scelto a me quindi oddo a prescindere fino allo schianto che spero non accadrà mai è fenomenale cioè non commento nemmeno personalmente invece Yota mi ha stregato Yota credo che tutti voi avete bellissimo ho perso totale razionalità come innamorarsi di una escort vabbè cioè non c'è neanche non c'è bisogno di combattere comunque leggendo queste cose si imparano si imparano molte cose sì è così allora ecco mai visti così tanti errori tutti insieme ti viene un po' da ridere un po' ti metti le mani nei capelli però dall'altro in effetti poca miseria la maggior parte di questi errori sono sempre stati perdonati cioè pensiamo a Zcash ah è sceso adesso ah ha fatto a Zcash che io quando quando ho stoppato un terzo della posizione adesso non mi ricordo a quanto come valore ho detto ma alleggeriamo un po' aumentiamo la liquidità visto che c'è una correzione non sappiamo come finisce stop un terzo della posizione poi si è fatta 110% in una settimana e vabbè cosa devo fare è vero dovevo stoppare e dovevo essere pronto ma avevo altro da fare a rientrare al momento giusto io invece ho il dato duro ecco tu ti sei innamorato ti sei innamorato avevo fatto le cose una iota e quindi mi sono soldato su Zcash allora in effetti questo benedetto stop loss lo stop loss ha salvato generazioni di trade cioè chi sa applicare lo stop loss e chi ha buona disciplina nel trading rimane sul mercato anni e fa i soldi chi non sa applicare lo stop loss non ha disciplina non ha metodo su mercati molto competitivi o difficili 99% di trade salta l'operale entro 5 anni però qui io sinceramente non ho una risposta la lascerò poi magari a Federico oggi pomeriggio non lo so si applica lo stop loss oppure no dipende perché nella maggior parte dei casi magari te ne sei pentito maramente non so pensiamo all'iCoin che era 7 dollari ha fatto 12 poi l'hanno fatta scendere forse i cinesi fino a 11 uno ha stoppata e poi vabbè deve essere pronto a rientrare ma magari si è distratto un attimo se l'è trovata a 40 dollari un attimo e poi a 60 70 e così via quindi dipende dal momento di mercato dipende dai volumi della cripto in questione perché magari una cripto si muove con 10.000 euro quindi eccetera però è vero che il mercato cripto mette in crisi proprio i capisaldi classici del trading ecco poi abbiamo la gestione del lance adesso io qui voglio condividere alcune cose con voi perché se siete nel cripto avete le posizioni aperte su tutte cose che pensiamo tutti allo stesso modo ecco la gestione dell'ansia è tipica del trading ti trovi a muovere soldi veri i soldi tuoi perché se i soldi non sono tuoi e sono in gestione se ne sbattono al cazzo delle perdite e quindi va bene così invece se lo fai con soldi tuoi sei teso però nel trading al di là della leva non della leva però se fai operazioni normali tu ti trovi magari che ne so hai chiuso la posizione prima hai un mancato guadagno di 1000 euro faccio per dire qui chiudi una posizione prima e magari dieci giorni dopo hai 50.000 euro di mancato guadagno è difficile è difficile cioè io mi ci trovo a pensare perché mi è successo per esempio sull'icoin e dico porca miseria 50.000 euro è uno stipendio normale di due anni e io me lo sono fumato in una settimana quindi gestire di mancato guadagno gestire gestire questa ansia è difficile è molto difficile perché è tutto più tirato lo vedremo dopo e è difficile nel mondo delle cripto dire ho fatto la cosa giusta che è quello che succede anche nel trading perché non riesci mai a fare la cosa giusta cioè o vendi e poi sale ancora oppure non vendi e poi ti torni indietro ecco è classico del trading però nelle cripto è tutto più esagerato tutto più difficile questo porta quindi a una maggiore ossessione compulsiva cioè siamo sempre lì a controllare più ancora di come magari facciamo nel trading tradizionale andiamo verso la fine quanto non manca siamo verso la fine allora quindi in effetti abbiamo delle continue oscillazioni di umore un giorno ci sentiamo Paperone che nuota nell'oro perché su Yota abbiamo fatto 100.000 euro il giorno dopo corregge e su Yota ci troviamo con un mancato guadagno diminuito in tre giorni di 40.000 euro quindi un giorno ti senti Paperone l'altro giorno ti senti Paperino oppure Superman e poi dopo un Rachitico ecco abbiamo questi cicli di euferia e depressione beh adesso depressione forse un po' eccessivo però diciamo che ti senti onnipotente diciamo guarda che roba il mercato sale poi vabbè dipende uno si può anche mettere short però mediamente siamo tutti abbastanza long sulle crypto visto il trend generale quindi siamo tutti esaltatissimi ti senti onnipotente invulnerabile poi impresamente dici cavolo guarda ho fatto 500.000 euro guarda che roba e il giorno dopo te ne trovi 250.000 quindi dovresti dire cavolo ma 250.000 sono un pacco di soldi dovrei essere contento però sfido voi a vedere che un giorno avevi 500.000 di guadagni il giorno dopo nei 250 un po' di depressione ti viene comunque e questo è assurdo se ci pensate se pensate che le persone vengono pagate ormai 5 euro all'ora quindi questo per capirci ecco quindi abbiamo proprio dei cicli no? euferia depressione iperattività continuatività quindi quando tutto ci sentiamo esaltati siamo sempre lì adesso io compro faccio poi il giorno dopo dicono no no ma adesso non ho voglia di guardare onnipotenza rispetto a impotenza cioè mi riesce tutto riesco a fare tutto però dopo ma cavolo non mi riesce più niente invulnerabilità contro vulnerabilità sicurezza contro insicurezza ecco il punto il concetto è che in un certo periodo ti riesce tutto e poi impresamente non ti riesce più niente e vai un po' in crisi questo è tipico un po' delle ondate del mercato delle criptovalute ecco torniamo con l'immagine iniziale l'atteggiamento se si è compulsivo cioè siamo sempre moltissimi di noi sono sempre lì soprattutto se usano quel maledetto crypto compare e se lo sono messi sul cellulare se si sono caricate le loro posizioni sono sempre lì a guardarle ma quanto sono in più quanto sono in meno 100 120 80 su giù su giù e quindi magari rischiamo anche di perdere la fidanzata o la moglie moltissimi controllano le criptovalute in qualunque situazione in effetti parlavo con una serie di persone che mi dicevano che un posto classico dove controllare sul cellulare il criptovalute è quando sei sul water quindi in effetti sei lì beh invece che leggerti il topolino che era un classico ti guardi nel tuo cavolo di criptovalute dal tuo smartphone no? ah ecco mi sono dimenticato di finirla questa vabbè la faccio questa mi sono dimenticato di finirla ecco una difficoltà in effetti è che questo mercato è 24 ore su 24 365 giorni all'anno allora io posso essere un esaltato pazzesco che trado sul mercato italiano sul mercato giapponese sul mercato cingalese e quindi mi faccio tutto il giro orario però in effetti è difficile mediamente uno opera su un paio di mercati ecco è incredibile perché questa roba qua non stacca mai io mi ricordo che quando facevo trading era una figata dicevo vabbè adesso sono stanco arriva oh chiudi i mercati che bello chiudi i mercati cioè no che bello nel senso che magari ti divertivi anche ma arrivato a un certo punto dicevi vabbè venerdì sera hanno chiuso i mercati sono aperti dalle 9 alle 17 boh finito la sera me ne vado in palestra i weekend mi vado a divertire faccio quello che mi pare vado al mare in montagna eccetera e qui come fai? qui c'è gente come Paolo Barrai che si è trovata a tradare dal parcheggio in automobile dappertutto cioè tradi e quindi quelle immagini del water e del letto non sono un po' così assurde se ci pensate e sembra una stupenda con i salmoni comunque non è banale questa cosa qua è difficile è difficile riuscire a avere gestire i tempi le pause e il distacco è avere disciplina perché accidenti chiudo la borsa basta non ci penso più invece qui è sempre aperto quindi questa è un po' la difficoltà che abbiamo e in più sono le ultime slide ho finito abbiamo tantissime variabili di rischio quindi diciamo che la gestione dell'ansia è ancora maggiore perché allora io ho il mio fineco trado sul Dow Jones regolamentato i soldi sono lì ho la 2FA sono protetto relativamente al di là che poi fineco vabbè comunque e finisce lì qui invece le percentuali di rischio come dicevo massima possibilità di gain massima libertà comporta la massima responsabilità personale abbiamo anzi da tutte le parti cioè siamo dove ho messo la passphrase ma l'ho scritto il bigliettino dove l'ho messo? nel cassetto ma se si incendia la casa e io perdo la passphrase e perdo il cellulare contemporaneamente che cazzo faccio? allora io ci ho già anche pensato ci ho già anche pensato ho detto allora lo do a un mio amico affidabile e ci scambiamo le passphrase però in effetti se io ho 5 bitcoin e lui ne ha uno è un po' rischioso oppure vai a metterlo in cassetta di sicurezza però la cassetta di sicurezza cioè ti vengono allora se hai 5 bitcoin sul tuo wallet sei tu che hai comprato 8 telefoni? sì l'ho fatto comprare anche a lei comunque allora cioè in effetti è difficile perché allora immaginiamo riflettete un attimo io ci ho pensato allora immaginate come la banca man mano ha aumentato la sicurezza secondo una serie di protocolli siamo arrivati al 2FA al tocco in una serie di cose la BCE ha voluto la maggiore sicurezza l'avviso di SMS quello venne fatto attraverso authorities eccetera allora immaginate che siete voi i responsabili allora avete sul vostro copè in facciamo sul vostro wallet un bitcoin 5 bitcoin adesso vi chiedo cosa fate se avete 300 bitcoin sul vostro wallet che cosa fate per proteggervi? cioè vi verranno un attimino queste paranoie o no? vi fate il secondo cellulare vi mettete le passphrase a cartaceo ovunque oppure ve la fate plastificare in alluminio mettere cioè non lo so però dovete dovete iniziare a a pensarci su no? perché cavolo oh se perdo 300 bitcoin sono rovinato cioè ma mazzo quindi non allora e quindi man mano iniziamo a fare più soldi si presentano problematiche maggiori dobbiamo aumentare la sicurezza e tutto questo crea ansia perché poi c'è la solità dell'exchange iniziano girare la voce oddio polonics sta fallendo ma cazzo c'è tutto su polonics vai a spostare tutto da polonics da un'altra parte poi abbiamo gli attacchi hacker perché adesso sono molto diminuiti però in ogni caso ti possono arrivare a portare via i soldi abbiamo lo scam che tu vai su myether wallet scrivi myetherwallet.com e vai nel tuo portafoglio peccato che sei andato su un punto net e ti hanno fatto tutti i soldi quindi adesso un messaggione grosso così attenzione andate sul punto sono tutte cose che se l'ansia del trading era già elevata immaginatevi tutte queste cose qua insieme che cosa combinano la gestione del wallet come dicevo furti smarrimenti incendi le cavallette insomma qualunque cosa può succedere massima possibilità di gain massima responsabilità personale insomma dobbiamo imparare a gestire queste cose non ci siamo abituati non è che sia impossibile adesso non è che vuole fare la depressione l'ansia a tutti bisogna insomma pensarci crearsi un metodo pensare a come fare essere sistematici iniziarsi a fare rifletterci crearsi una road map da seguire man mano che sale il capitale insomma comunque è un recupero della libertà individuale e di privacy notevole questo c'è da dire è un piccolo scotto quello che si deve pagare ma il senso di libertà aumenta di smisura no no ma infatti hai ragione adesso io l'ho messa troppo stavo parlando della gestione dell'ansia però in effetti sai la gestione dell'ansia nel momento in cui ha guarnato 500 mila dollar in tre mesi ma te ne freghi dell'ansia ti passa subito il problema è che però devi stare attento appunto a gestire bene questi 500 mila l'ansia che non puoi combattere è la persona che prende 5 euro all'ora e non arriva a fine mese quella è un'ansia che non si può combattere invece questa è un'ansia di grasso che cola cioè ringraziamo di avere ansia del genere ecco così va bene ho messo a posto allora quindi come dicevo quello che dicevo quello che cambia nel sono tutti i meccanismi classici del trading degli investimenti dell'ansia normale esistenziale cosa succede? che nelle criptovalute è tutto estremizzato tutto esagerato quindi più difficile da gestire come dicevamo l'abbiamo già detto più volte e quindi io ho chiamato over stretching tutto come un elastico molto tirato pur con le soddisfazioni che compensano quindi come fare? ecco è uno strano cocktail quello di lavorare nel campo delle criptovalute di investire eccetera perché è un mix da un lato di razionalità come abbiamo visto no? tifo innamorarsi della cripto eccetera dall'altra ci vuole anche un metodo razionale disciplina però dall'altra se io sono troppo disciplinato e uso un metodo troppo razionale e non uso un po' d'azzardo mi perdo le occasioni pazzesche quindi forse anche un po' di sana follia e di estremismo ben dosato nel cocktail scuotole tutto insieme e viene fuori una bella criptomania dovremmo inventarlo questo cocktail veramente e quindi alla fine concludendo la mia presentazione diciamo che appunto in qualche maniera forse dobbiamo cercare di prendere tutti un po' più a leggera questo mondo delle criptovalute io lo vedo anche nella chat lo vedo nella chat di BBit sono sempre tutti lì collegati messaggi alle 4 di notte cioè ma state tranquilli cioè carpe dien cioè cogliamo l'attimo abbiamo un'occasione epocale la stiamo cavalcando bene alla fine il portafoglio salgono i soldi che governiamo salgono finché la finestra rimane aperta cogliamola nel modo migliore e ringraziamo il fatto che noi abbiamo fatto la speciazione come vi ricordate quel grafico siamo oltre siamo già come dire un'elite un'avanguardia che si trova in una situazione che potrebbe veramente migliorare moltissimo la nostra vita quindi cerchiamo di goderci l'attimo e di non farci prendere troppo dall'ansia grazie a tutti io ne approfitterei per la videocamera un saluto a Pascal che è in tutte le chat grazie a tutti